benvenuti in questo video che è un video speciale è un video show che e si è un video diverso come diceva il primo video di questo tipo sul canale ed è un video pull di questi cinque ticket non cinque perché scusate gli altri sette li ho fatti perché volevo fare l'ho portato lo scivetti dal brand blu e l'ho ottenuto come free poi qui ho 34 diamonds e andremo a pullare nel banner di king quindi partiamo col primo ticket dico solo che ho aspettato molto questo giorno perché spendere cinque ticket in una volta sola è tanta roba a mio parere non credo di aver mai fatto sei multi di fila no non credo proprio poi vediamo speriamo di animazione normale ok schifo scusate ma schifo prima multi è stata un pochino una delusione ma vi ricordo noi puntiamo a cercare di ottenere esca nord verde almeno io punto a esca nord verde lo so cerca esca nord verde quando oramai ce l'hanno tutti e oh mio dio questo è un altro multi shaft santo cielo fortunatamente questo è lo step in cui ti danno le ssr garantita quindi speriamo che oh no ti prego non essere elisabeth verde non essere elisabeth verde so che sei nel banner non ti voglio non ti voglio almeno ok sarebbe un coin ma preferisco di gran lunga trovare esca nord verde poi si deve essere un coin che coin sia cioè mi fa comodo anche quello cioè sto aspettando dove sono tipo 5 coin latino voglio ottenermi sta rossa ok vediamo subito tra i coin che mi potevi dare questo è tipo il terzo di lui di coin ok non mi lamento è comunque un coin abbiamo ancora due ticket e si spera che almeno un altro ssr esca ok c'è ok c'è il sole non la proprio per gentilezza non la schifo ma perché potrebbe esserci escono un animation ma è tipo una cosa abbastanza difficile che ci sia escono un animation scusate non schifo cioè ok sto prendendo coin sr ma non mi interessa dei coin sr sì mi interessa però meno di trovare un coin vabbè già capito schifo cioè beh diciamo che questo pool non è stato tanto bello ma mi prendo il coin di erberan blue e ce lo vado a dare e per chi me lo chiede il motivo per cui cerco il motivo per cui cerco in quel banner è perché mi manca merlin verde e preferirei cioè nel senso se la trovo bene se non la trovo vabbè ma soprattutto perché sono riuscito ad ottenere già con 90 diamonds sia king blue che lost vein prima e terza multi vorrei dire la prima multi era pure doppio ssr però la era user vabbè 3 su 6 quindi come vedete ne ho pullato una copia in più ora vorrei proprio vedere quanto sono quanto sono di coin 5 adesso sembra bene vabbè non lo prendo lo so direte cioè il coin di escono rosso lo so però mi interessa di più ottenere est rossa verde dipendiamo di reward che a me fanno molto comodo quindi ora andiamo la multi e la verità it's god sarebbe il primo premio il secondo premio invece sarebbe merlin verde terzo premio un altro lost vein un altro king uh ssr ok un ssr c'è counter allora una ce n'è quindi potrebbe esserci it's god se con 120 diamonds trovo tutti e tre i ban esclusivi quanto quando un giocatore normale servirebbe tipo 500 no facciamo sì di 500 minimo diamonds eh è un pochino una vergogna la vediamo ok twigo ciao twigo ok june ditemi se volete altri video pull ovviamente nel limite del mio possibile quando è che arriviamo a quel sono molto fogato perché se trovo lei è una roba incredibile ripeto o it's god oppure merlin verde è tipo la terza merlin eh sì la terza merlin sono incitrullito la terza vivian eccola non me ne frega questo è coin io lo metto a coin cioè non me ne frega nulla cioè se questo è coin cioè non ci penso nemmeno due volte cioè te rimani coin già una volta t'ho trovata non ti ho nemmeno portata a UR potevi servirmi a qualcosa nel global perché ti avevo portata ad UR vabbè fammi vedere un attimo come insieme a 6 vabbè è buono quello allora per questo video è finita spero che per questo video pull vi sia piaciuta vi sia piaciuto con una schermata di King nuovo io vi lascio al prossimo video ciao ciao